Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi siamo qui con Tomas, ospite speciale con Tomas, ospite speciale ci avete chiesto in tantissimi di fare altri video assieme faremo anche il video in cui io indovino i prodotti da uomo, i prezzi dei prodotti da uomo ma oggi, io mentre mi sistemo, oggi faremo il video in cui Tomas, quindi il mio fidanzato prova i prodotti da donna e vi anticipo che ci sarà da divertirsi non vedo l'ora, sei pronto? prontissimo vabbè, devo dire che la selezione che ho scelto di prodotti, vi anticipo, mi entusiasma al quanto e quindi voglio vedere come sarà allora, iniziamo con questo, perché questa è stata la tua richiesta cioè tu mi hai detto, ma mi darai il rossetto rosso e io ti ho dato il rossetto rosso il mio preferito beh, non ho uno specchio, bo non mi serve non ti serve ah, ti guardi nella videocamera là? ma sei sicuro? no intanto non si vede proprio da dietro però sembra che hai mangiato le perfette col sumo come ti descriveresti in questo momento? un figo ah, va bene ottimo perfetto quindi poi usciamo a cena con i vostri amici così direi sì, per esempio eh, sì, certo altro prodotto, questo è un ombretto per capelli è perfetto, tieni cioè, devo, 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 devo ombrare i miei capelli? sì c'è come? eh, lo strofini qui che ha i capelli? circa, prova, non lo so ciao, bene c'è così, così? eh, oppure lo strofini direttamente poi se ne va, eh, ti lavi i capelli se ne va, eh non pensare che avresti no, non si deve niente no, non credo tu lo stia usando nel modo corretto ma non è un po' sulla tua fronte però hai il ciuffo verde a me piace avere il prossetto rosso e questo fingi capelli il fingi capelli oddio, sembri il Joker sembri il Jake Nicholson nel film Batman che abbiamo messo l'altro giorno adesso capisco quando non vuoi darmi i baci perché se no ti sto con tutto il prossetto eh, sì, eh, sì adesso capisco bene, proseguiamo? cosa ne dite voi? commentate come commentereste il look di Tomas fino a questo punto eye brush questo, dai, Tomas è convinto che si chiami eye brush questo è per stringere i sopracciglia le sopracciglia praticamente per allungarle quali sono le sopracciglia? queste no, quelle sono le ciglia le sopracciglia stanno sopra le ciglia, le ciglia ok quindi devo fare così occhio secondo te noi donne facciamo tante robe per la vostra bellezza sì, ma voi siete già abituate a fare ah, e quindi? beh, fate il comodamente non devi chiuderlo sai perché ti sto bastonando ma tu mi dispiace un po' ci sono riuscita comunque e questo comunque impiega ciglia non un eye brush e cos'è l'eye brush? non esiste non esiste? eye brush vuol dire pennello per occhi sono astuti no, ma questo non è un pennello non impiega ciglia ok poi questo questo è un questo è un un fai vedere a videocamera guardate questo cos'è? questo è per fissare i capelli vai vai si, bravissimo bubbetto ah, il Draco, fai vedere hai fatto vedere bellissimo belli non so come faccio a stare su perché dai capelli così corti li parte poi c'è questo descrivici ma questo intanto devo leggere allora eyebrow eyebrow pencil dunque una penna made in Germany ah beh questo era il clou era questo ah, questo è per pitturare le ciglie ma questo non è pitturare credo però è pitturare le ciglie però, però si fa così ma scusa, scusa, scusa che assistente del cavolo ok, non dimenticate l'altro occhio comunque c'è un'altra parte questo è per fare dammi un'olio cos'è? descrivici cos'è cos'è nostra? sì, ok cos'è? cos'è questa? cos'è? dì a me dai un'olio scusa il vetro questo è per dipingere la base dell'occhio no la riga c'è la base dell'occhio no c'è questo ok vai cioè guardalo guardalo è spedito Tomasce sembra che stai per stare male posso dire a cosa serve questo? no sì no per dipingere le sopracciglia ma non esistono tipo sì ma questo è quello che ho detto io sì ma questo è per le sopracciglia mi sto sentendo tanto incolta che mi sto facendo fare sta cosa però se devo dire ditegli che è il ragazzo più bravo ditemi anche perché lei mi sta prendendo per il culo cioè per me dai non è vero è che sei troppo ingallato con sta roba io mi aspettavo che fosse tipo disgustato invece sei in piena poi c'è questo questo è il Bene Tint di Benefit Bene Tint Benefit lo conosci? siamo stati a San Francisco con loro questo è il Bene Tint ti dico solo stai attento perché è liquido adesso dimmi secondo te cosa può essere questo potrebbe essere un colore per mettere sulle unghie no non è questo è un colore per mettere sulle guance non c'è quella unghie no però hai ragione sembra uno smalto bravo di solito io ne metto di meno però diciamo che per me è un delineo sempre più Rambo no no adesso devi darmi una una spugnetta così che vi faccio un po' sfumare siamo a questi livelli eh sì adesso ho messo sul colore la pittura adesso devo mettere un po' ecco l'hai fai lo stucco la pittura lo sfuma eh sì cioè ma voi vi rendete conto io pensavo che tu faccia un ciclotissimo tu ma invece sa cioè sfuma il blush addirittura cioè guarda te vedete ma niente di tale però almeno qualcosa tu me la racconti giusto come a me quando io non ci sono ti travesti quindi come in studio molto all'incirco poi c'è un'altra cosa un'altra cosa che andrà a coprire questo stupendo blush che tu hai messo che è veramente un capellabora Coco Clear Mud Detox Mask usa la una ma si e la mette come la schiuma da barba ma non è schiuma da barba ma no deve restare su non devi spiaccicarla così tanto devi metterla e lasciarla cosa è sta ora una maschera che ti rende la pelle più morbida e la metti così deve restare su no posso dirti una cosa si che voi ragazzi siete assurde cioè che fate tutta questa volta per andare fuori di casa è assurdo secondo te cavolo perché tu non la faresti mai sta maschera ma non facciamo nessuno nessun maschera non fa no ma perché poi ti viene la pelle tutta bella morbida ok la farei sabato sera da un cuore eh sì infatti oggi è sabato ah sì questo è bene poi c'è questo questo praticamente va a massaggiarti il viso e ti toglie tutte le impurità tutte le schifezze eccetera eccetera devo usare adesso per questa schifezza che ho assurvisa ahahah 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 ti piace eh ahahah 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 abbiamo finito tutti i prodotti mi dispiace vorrebbe avverti tutto il giorno è divertente sta cosa voglio sapere le tue conclusioni di noi donne che usiamo tutta sta roba penso che ci mettete ci mettete ovviamente tanto forse anche troppo ma noi noi maschi eh noi vogliamo vedervi quando siete fuori non adesso cioè cosa vuol dire non ti toleste la preparazione ti toleste il risultato no no ah grazie che profondità voi donne siete cioè vi impegnate un po' troppo in cose che potreste anche lasciare stare ecola invece di apprezzare è proprio diverso ragazzo ma no voi io ti dico l'unica cosa che metterei io in generale metterei il rossetto ahah metterei le le sopra le ciglie si cioè mascara no quello per le ciglie in mascara in mascara metterei se probabilmente chiami rimel non so ok metterei il mascara si e poi ho il rimel ecco ok e poi mi mi metterei un po' mi pitturerei una crema bella sulla faccia cioè il fototinta mi pitturerei con una crema bella la faccia vuol dire mi stendo il fototinta ecco beh grazie Tomas io voglio farei questo grazie un giorno mi trucchi tu io allora tu mi hai già truccato e non vedo il risultato non era bello ti dico solo che questo lo rifaremo e ti assicuro che sarei molto bella è una specie di minaccia ringrazio il nostro Tomas Aglies Joker che si è offerto per filmare questo video per provare ti stai piacendo io so che non vuoi nemmeno farti la doccia vuoi uscire così io lo so si si io ti dico l'unica cosa che mi pulerei è la faccia che è maroma ah i capelli vero e verdi così i capelli i lasciari così e rossetto anche mi piace io ti dico che a vedere verde e rosso mi piace ok manca solo il bianco e facciamo le bandiere dell'italia dai potevo darti una maschera per il viso bianca e avevamo le bandiere tricolore anche se mi piace adesso oggi qua il rossetto rosso e i capelli verdi comunque mi sposo fa due mesi ah quindi dici pure che ti ha concetto così quanto ormai sono fregata eh sì ah ancora sì ah ma tanto questo per oggi è davvero tutto un bacio spero che vi sia piaciuto il video tanti complimenti a Tomas bravissimo bravissimo adesso avrai la pelle molto benissimo alla prossima ciao 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 ciao